Ragazzi, domande? Giada, vai Giada! Sono un po' dedicata perché quelle domande forse un po' personali Ma ce l'hai il cazzo? Ve lo chiedo spesso Ciao, sono Francesco Giano E io sono Giulia Valentina Questo è Shoff, il podcast di Wilco prodotto con Sky Italia che racconta come sta cambiando il mondo dell'intrattenimento Chiacchierando con i suoi protagonisti Oggi parliamo di rappresentazione delle persone transgender al cinema e lo facciamo con Francesco Cicconetti uno che ha iniziato il suo percorso di transizione a 20 anni nel 2017 Fa divulgazione sul tema sui social con il nome di Metz Ha iniziato a parlare di sé su piattaforme vecchissime come Ask Parliamo di rappresentazione transgender in maniera generale immaginiamo su tutti i media Sì, su Google, serie tv Tu sui social sei come Metz Metz Ho rubato molti anni fa un ragazzo su Tumblr Salutiamo il Metz Salutiamo il Metz originale che poi si sarà scritto all'Instagram E c'era già tutto E il nome era già occupato, peccato Quindi già abbiamo imparato la prima lezione da te Cioè quando vi iscrivete a un social nuovo non si sa mai Scegliamo un nome più facile perché poi magari esplodete Non sai mai cosa succede Esatto Meglio chiamarsi in maniera E come quando fai la prima mail La mia prima mail era Sun Girl Giulia, no? Io sempre fraugiano, chiocciolalibero.it mi scambieranno per un prete Tu stai fraugiano Super standard Sì, sì, proprio un prete Vabbè Perché tu comunque Tumblr Tu segui i social belli anche Tumblr, Ask Questi social bellissimi Io li ho fatti tutti Ho detto Io non ne voglio fare neanche uno di social Quindi sì, ho iniziato In realtà ho iniziato su Ask Voi masticavate Ask Sì, io sono stata un po' su Ask Tu non l'hai avuto Vabbè Ask Immagina la tossicità fatta social Perché Praticamente avevi il tuo profilo La tua bacheca E le persone ti potevano fare domande in anonimo Ok Quindi puoi immaginare C'è l'anonimato Il grande problema dell'oggi Mi sono formato una corazza già lì Lì dicevo liberamente di essere una ragazza lesbica E questo era strano Perché Mi dicevano Ma non ti vergogni Ma hai contro la natura Fai schifo e tutto E io rispondevo con i video Perché potevi rispondere con i video Questa era la cosa Grande, la sfida Sì E rispondevo ironicamente E questo aveva fatto appunto scalpore E cosa Cioè ti scrivevano cose Ogni dieci messaggi Quanti erano tossici Secondo te sono ask Dieci anni fa Undici Tipo Qualcuno mi diceva Anche cose Tipo Vabbè complimenti Arrivavano qualche complimento Un po' Normale Poi arrivavano Fai schifo Sei contro natura E poi arrivavano moltissimi Ma sei un ragazzo trans? Ok Oppure Ma hai preso testosterone? Ma Sei in percorso di transizione? E io mi arrabbiavo Io mi arrabbiavo tantissimo Mi dicevo Ma cosa dici? Non sono un drogato Un preso testosterone Che fa liderissimo A posteriori Oppure Ma come ti permetti Di dirmi che sono un ragazzo? No E quindi per dire Che qualcuno già Dieci anni fa Aveva capito Ma forse anche perché Dieci anni fa Come veniva percepito Come veniva comunicato Quello che era essere trans Era negativo E quindi uno si poteva Sì La parola trans Ancora oggi Ci vergogniamo a dirla Come la parola lesbica Ci sembra sempre Che sia una parola offensiva No? Trans Sono un ragazzo trans Lo sono Cioè non è una parola brutta Però l'abbiamo sempre caricata Di significato brutto Le donne trans Erano le sex worker Certo Nella narrazione Secondo me alcune persone Si chiedono È più corretto dire Transgender o transessuale? Ma allora Transessuale Sa proprio di Una parola un po' più brutta Quasi di transgender Perché transessuale È legato all'ambito medico Nasce in ambiente medico Per definire La persona che Si opera E prende testosterone Passa da uomo a donna Proprio troverai questo Ok Invece transgender È un termine Che abbiamo coniato Noi della comunità Transgender appunto Che non solo È un termine ombrello Quindi indica Uomini trans Donne trans Persone non binari Eccetera Ma è legato All'autodeterminazione All'identità Come percezione di sé Non a quanti interventi fai E al tuo cambio di sesso Che non vuol dire niente No? Oggi usiamo transgender Chiaro Quindi Transgender Iniziamo a fare un momento Anche un po' super Quark Ci stanno Quindi ti sposti Da Ask A Instagram O Facebook No Facebook Da Facebook Ma ti volevi male Allora Facebook e Ask Le ho avuti in contemporanea E mi ricordo ancora Quando facevo Facevo stati cringe Vabbè chi non le ha fatti Su Facebook Quelle cose cringe Dieci anni fa E poi Facebook Ce li ricorda Facebook ce li ricorda Mi arrivano le mail Ti ricordi questa cosa Che hai postato Bene che così La cancello Grazie mille Non l'avevo rimossa Ma grazie per il trauma No? Sì sì effettivamente Infatti qualcuno Mi ha detto Non c'è nessuno Che mi sta più antipatico Di me stessa Su Facebook dieci anni fa È vero Ma che cringe E quindi ti sposti su Facebook Sì su Facebook Però lì Cioè la community su Facebook Non si può veramente creare Secondo me Cioè è difficile Più i gruppi Poi si creavano I gruppi sulle persone O sui gruppi musicali Su Instagram invece sì Su Instagram Abbiamo secondo me Imparato cosa vuol dire Avere una community Cioè Cosa significa Avere un pubblico Che ti vuole bene Ecco Quindi su Instagram Si è un po' creata La tua community E Hai trovato tante persone Che sia Ti hanno A cui sei stato molto utile Perché hanno capito Magari anche loro stessi Di essere trans Come all'inizio Magari anche tu Non l'avevi capito E poi anche persone Curiose Interessate Ad educarsi No? A informarsi Su Su questi temi Giusto? Sì La mia community Per fortuna Non è fatta solo di persone trans Anche perché Sennò sarebbe Un ghetto Praticamente Perché forse Comunque Hai la fortuna Di essere in un contesto Anche nella tua vita Di tutti i giorni Molto protetto Per anche quello Che è il tuo lavoro No? Sì Effettivamente Visto che oggi È questo il mio lavoro Sono privilegiato No? Però Io ho iniziato A fare questo lavoro Nel 2000 Fine 2020 Quindi Prima di quel momento Ho fatto il cameriere Per un sacco di anni Poi Mi sono laureato E ho iniziato A ricerca Dei tirocini E fatti Dica ricerca E ho lavorato In due aziende E una Faceva macchine Per il gelato Era una cosa Molto carina Perché c'era sempre Una marea di gelato Ma tantissimo Cioè io pauso E pranzo Solo a mangiare gelato Però l'ambiente Era un po' Un po' indietro Mi viene da dire No? In realtà Anche lì Il colloquio Per dire Non mi volevano più Assumere Perché avevo i documenti Non ancora rettificati Su documenti C'ha scritto Francesca No? Ancora E loro Quando l'hanno scoperto Ah no dai Passiamo a un altro candidato Anche se ormai Mi avevano scelto In realtà Ci sono stato male Perché era un lavoro Che volevo L'inizio è stato proprio Parliamo con un avvocato Vediamo cosa si può fare Questa è stata la reazione E poi ho parlato Con mia mamma E lei mi ha detto Dai calmati Andiamo lì Parliamoci Facciamo un po' Di divulgazione Perché alla fine Quando sei una persona trans Fai divulgazione Sempre in ogni momento Della tua vita Anche quando non vorresti Però alla fine È stato assunto Poi licenziato Però vabbè Insomma Almeno nel lavoro Per un po' l'ho avuto Tra l'altro Tu hai Adesso hai cambiato Sul documento Giustamente Ti chiami Francesco Perché io ho approfondito La legge Correggimi se sbaglio In teoria Per la legge italiana Tu non potevi cambiare Il tuo nome sui documenti Se non provavi Che avevi fatto un intervento E quindi dovevi andare Proprio in tribunale A portare i documenti Poi c'è stata nel 2015 Una sentenza della Cassazione Che dice Guarda ragazzi Non serve neanche L'intervento Quindi è così Cioè immagino La Cassazione Ha superato la legge Adesso uno può cambiare Il genere sul documento Il nome sul documento Sì era stato così Fino sì Circa al 2015 Dovevi essere Aver subito L'intervento ai genitali Proprio Perché dovevi provare Che tu Non saresti tornato indietro Quindi ti obbligavano A operarti Tanti ragazzi Tante ragazze L'hanno fatto Senza rendersi conto Dell'impatto psicologico Che magari avrebbe avuto Senza aver potuto Ponderare No? Bene il peso Di quell'intervento Perché è obbligato E obbligati A farlo Perché senza quello Non hai il documento E senza il documento Tu sei sempre esposto Perché vai in palestra Ti scrivi in palestra Sanno che sei una persona trans No? E quindi metti Cosa succede Vai a lavorare Colloqui di lavoro Lo sanno tutti Magari non ti assumono Magari ti licenziano Poi finalmente Siamo arrivati Solo un intervento Non per forza genitali Per un po' Si è richiesta Almeno la mastectomia Che non è mastectomia Ma ricostruzione Del torace maschile E poi neanche quello Io infatti Quando mi sono rivolto All'avvocato Le ho detto Che io non avrei voluto Operarmi Per avere i documenti Tu hai iniziato a parlare Di tal maschile Nel 2017 Più o meno Sì Ok Come è stata accolta Questa cosa? No Bene Ho fatto più io Fatica ad accettarlo Diciamo Cioè io ho fatto Coming out Con i miei amici Nel 2016 Più o meno Inizio 2016 E allora Non fregava niente Cioè se fregava Molto più a me Allora hanno detto Ok Cioè banalmente ok Poi dopo qualche mese Mi fanno Vuoi che ti chiami Francesco Vuoi che ti chiami maschile E l'ho detto No Perché non ero pronto Cioè mi faceva troppo strano Per me era come Recitare una parte Cambiare il mio nome Anche perché il mio nome Per quanto Non fosse il mio Alla fine Non mi ci ritrovassi Però era quello Che avevo da 19 anni Quindi cambiarlo È stato difficile Ti appartereva in qualche modo Era il tuo possesso Più che altro E poi è una cosa che Cioè lo senti negli anni Anche i pronomi Sei abituato a quelli Quindi cambiarli Inizialmente per me È stato stranissimo Proprio Dovevo sforzarmi A parlare Maschile Nonostante la mia identità Fosse quella Quindi quello è stato Il passaggio Un po' più complicato A livello di linguaggio Però fosse stato per loro Avrebbero fatto subito Ok Invece i miei genitori Ci hanno messo molto di più Chiaramente Normale Che insomma Ci sono persone trans Che le persone trans Avevo fatto un po' Una domanda Il mio lavoro Lo bombarde di domande Sul suo lavoro Su come si costruisce C'è una certa cosa Siamo liberi di invadere No Come fai sesso Questa è una domanda Che mi chiedo Magari non a cena Questo non me l'hanno mai chiesto Cena Però sui social Sempre Ma anche Ne metto una foto Con la mia fidanzata Chiara A volte capita Che mi chiedono Ma come fate sesso Proprio nella sezione Commenti Queste domande Mi hai risposto con ironia Mi hai risposto con ironia Nei commenti O non rispondo Di solito rispondo bene Adesso Una delle tue attività principali È fare anche consulenze Per aziende Giusto? Che cosa ti chiede un'azienda? Cosa si sta cambiando All'interno delle aziende? Allora sì Le aziende sono Sempre più interessate Hanno questa parte Di diversity inclusion Appunto E Chiamano più che altro O degli eventi pubblici Se no Mi chiamano per Informazione su Come parlare ai dipendenti Come Come accogliere Un dipendente Che magari fa coming out Come persona trans Come gestire La questione dei documenti Per esempio Normalizzare il discorso Sui pronomi Insomma Come rendere L'ambiente lavorativo Accogliente E Non c'è mai una risposta Standard Però Ci sono delle code Le piccole accortezze Che possiamo avere Tivo? Qualcuno ci può salire? Ma allora Per esempio Se una persona trans Fa coming out Ci sono persone trans Che lo fanno magari Già con i colleghi Tranquillamente Oppure persone che Vanno dal Da un capo Un responsabile Lo dicono Sì In maniera un po' più riservata No? E Se ci sono persone Dell'azienda A cui bisogna dirlo Per forza Perché questa persona Magari ha delle relazioni dirette O perché scopriranno I suoi documenti E tutto Sarebbe bello fare Sarebbe bello fare Una riunione Diciamo come dire Un gruppo In cui questa persona Sia presente Questa persona Con la persona responsabile A cui l'ha detto Quindi una persona Su cui possa fare affidamento Perché a volte Capita che poi Si faccia questo passaparola All'interno dell'azienda Da cui la persona trans Sia esclusa E quindi il linguaggio Che passa Non è il massimo Sembra quasi pettegolezzo Sì È quasi outing Adesso hai parlato Di coming out E outing Che sono forse I due termini Che io vedo più Utilizzati nel modo sbagliato In questo caso Penso che Un po' Alcune persone ti dicano Eh però ci sono troppe parole Da imparare Ci sono troppi termini Che cambiano In continuazione E Quanto è grave Quando si sbaglia? C'è questa diatriba Su È importante No non è importante E ci dimentichiamo Di quanto sia rilevante Così come il documento Di identità Io ho capito Quanto è importante Quando l'ho dovuto cambiare Prima era il pezzo di carta Che hai Però per te è una cosa Che se la perdi Sono madonne Perché devi andare Dai carabinieri Però di base Non ci ragioni Il linguaggio è uguale Quando io l'ho dovuto Mettere in discussione Pronomi Nome Tutto Mi sono reso conto Di quanto è fondamentale Per identificarci E Le altre persone Non se ne rendono conto Perché appunto Tu ti chiami Francesco Da sempre Quindi per te Ok è il tuo nome Ma se ti togliessero Francesco Tu saresti Cioè come ti presenti Cosa dici Per definirti È verissimo Ed è giustissimo Provo a farti Challenge A volte non è più Come diceva Obama Obama faceva un discorso Bellissimo Agli studenti del campus In cui criticava Quello che lui chiamava La walk culture Cioè il Andare a Cercare di Rimproverare Chi fa qualcosa Di considerato Di sbagliato Obama in questo discorso Delicatissimo Ovviamente Dopo che era Dopo che non era più presidente Perché da presidente L'aveva fatto Disse A volte voi ragazzi Confondete l'attivismo Con lo scagliare Pietro online Vi alzate Linciate Chi ha sbagliato Un pronome sui social E poi tornate a guardare Tornate a guardare La tv sul divano Pensando di aver fatto Gli attivisti Attivismo non è Scagliare pietro online È ovvio che bisogna Stare attenti al linguaggio Però uno può dire Sì siamo in una fase Di cambiamento Di transizione È giusto educare le persone Però neanche magari Terrorizzarle O rinciarle online Se hanno sbagliato In buona fede Un pronome Cioè la via di mezzo Forse anche il Ah ma parli Cioè Ci troviamo d'accordo Non l'ho mai fatto Ma non l'ho mai fatto Cioè perché è una cosa Una filosofia Tra virgolette di vita Cioè anche nella Nella vita di tutti i giorni I miei amici Per un po' Qualcuno sbagliava I pronomi all'inizio Cosa gli devi dire Muori Cioè Coraccio Anch'io sbagliavo Figurati no Cioè E è una cosa anche Quando mi chiedono Come posso fare Coming out Con i miei genitori Qual è il segreto Per avere un sereno Coming out Spoiler Non c'è nessun segreto Perché è impossibile Dirlo Però una cosa Che a volte Dimentichiamo Che quando parliamo Con i nostri genitori Facciamo coming out Generazioni diverse No Cresciuti Da una generazione Ancora più difficile E quindi cosa possiamo chiedergli Cosa realmente possiamo chiedergli Quanto possiamo aspettarci Che capiscano subito Poi Questo non per giustificare Un genitore che ti dice Che non devi fare Percorsi di transizione No Perché assolutamente Però Un genitore che Ci mette un po' A capire Cos'è la transizione Ci mette un po' A cambiare i pronomi Accettare che ha delle difficoltà Quello può essere un segreto Per avere un coming out Anche non avere aspettative No Da mondo degli arcobaleni Perché Se no Chiaro che le aspettative Non vengono soddisfatte Perché non succederà quasi mai Una cosa del genere Perché i genitori Non sono stati educati Mai E questo Non è colpa di nessuno Chiaro che deve essere Un percorso Con un punto A metà D'incontro Non che tu Devi rincorrere il tuo genitore Per farti capire Però Lui ha delle difficoltà Tu hai delle difficoltà Accettate questa cosa E Insegnatevi l'un l'altro Quello che state imparando Dal percorso In tutti i grandi Cambiamenti sociali Comunque Non ti dico la violenza Nel vero senso Anche se certe volte C'è stata C'è sempre Io penso a Per esempio Chi Gli attivisti Che andavano Appunto Gli animalisti Contro le pellicce Avevano le immagini Di loro Che buttavano il sangue Dalle persone Che uscivano dai negozi Che era una cosa Comunque abbastanza Violenta E con la gentilezza Secondo te Si può Cambiare Perché Quasi sono più Io Aggressiva Mi chiedo Se ci sia bisogno Cioè Me lo sto chiedendo Anch'io Oppure Se con la Cortesia La gentilezza Senza andare A linciare le persone Online Si possa arrivare A questo rischio Forse alcune persone E' una bella domanda C'è la scuola Che dice Secondo me E' giusto Che No è giusto E' avvenuto Nel corso della storia Tutti i grandi movimenti Spesso hanno una prima fase Proprio per emergere Un po' più Aggressiva Diciamo Che siano Stati con la polizia Cambiamenti radicali Secondo me Hanno bisogno Di movimenti radicali Perché Tu non puoi entrare In un sistema Consolidato In anni e anni E dire scusa È quello che dico Ripeto Non è giusto Arrabbiarsi di base Non è per forza Un sentimento Sempre bello E giusto Però E' ragionevole Anche perché Serve a farti sentire Anche perché Con l'educazione Molte volte Non viene ascoltato Allora sì Dipende Secondo me Anche come Come è verso Chi coinvogli la rabbia Cioè se la coinvogli Verso l'ultimo Cristo Che sui social Ha sbagliato Un pronome E lo attacchi Migliaia No Se invece Stai chiedendo Qualcosa di concreto Al potere Contro la sottomissione O contro un certo uso Di cose Molto concreto Molto preciso In maniera Aggressiva La stai promuovendo Il cambiamento Di più Secondo me In maniera più efficace E anche Secondo me Più Più rispettosa Ecco La guerra contro uno Non ha mai senso Esatto Però Giustamente Dare la colpa A un singolo E' sempre Anche gogna Esatto La gogna Mediatica Su Instagram E' così facile Esatto Spalare Merda Sulle persone Mi fa sempre Sentire male Qualsiasi cosa faccia Non mi fa proprio Sentire male Perché proprio Terrorismo Esatto Quello non mi piace Parliamo di un tasto Dolentissimo Ma di cui bisogna parlare La rappresentazione Delle persone trans E il linguaggio Sui giornali Io in qualità Rappresento i giornalisti Amici giornalisti Chiedi perdono Chiedi perdono A nome di tutti e tutte Alla comunità Traf Dovete chiedere scusa Per anni e anni A venire Credo di non aver mai Fatto scivoloni Ma solo perché Non ho mai Parlato Ho fatto tanti articoli Sul tema Ma sicuramente Io ne farei tantissimi Ottimo modo Per non fare scivoloni Io non lo faccio Così Sicuramente Non sbaglio Tu ne fatti mai Mi hai fatto Allora sì In effetti La mia esperienza Io ovviamente Non da giornalista Quindi i miei errori Forse sono più perdonabili Mi è capitato Durante il lockdown Di parlare di Pose Una serie che A me è piaciuta tantissimo E è una serie Che io Sbagliando Sulle mie storie Dico Parla di Drag Perché comunque C'era un momento Dove ci sono questi Ballroom Dove si fa Una sorta di sfilata Dove comunque Ci si veste a festa O traveste a festa Ho detto questa cosa Di Pose Che in realtà Pose è una serie Che parla di donne Nere transgender Che è complessamente Un'altra cosa Cioè essere transgender E fare un drag Sono due cose diverse Poi corregimi Se sbaglio Ma oramai Non sbaglio più Quindi fare drag Vuol dire È quasi una cosa È solo legata All'intrattenimento È legata a un momento In cui tu vuoi Intrattenere un pubblico Comunque avere quel personaggio Non ha a che fare Con la tua identità di genere Mentre essere transgender Ha a che fare Con la tua identità Quindi io ricevo Qualche messaggio Dalle mie follower Che sono avanti Sono veramente Una community Molto gentile Molto informata Che mi dice Guarda Pose non c'entra niente Con il drag Parla di queste cose Parla di donne transgender E quindi Io in quel momento Ho detto Caspita Io che ho quasi Un milione di follower Sto dicendo Una mega stupidaggine Che può danneggiare Comunque Chi mi segue Perché gli sto dando Un'informazione sbagliata E quindi Questa è stata Una bella occasione Io ovviamente Ho cancellato subito Le storie Ho detto Ho sbagliato Ho detto Ho fatto questo errore E con Muriel Che è una ragazza Che conosci Abbiamo fatto una diretta In cui abbiamo parlato Dell'importanza Di dire Nel modo Di usare I termini corretti Specialmente Chi è Nella mia posizione O anche Ancora di più Nella tua Che io sono Una semplice influencer E i giornalisti Ti sei importata Veramente bene Devo dire Cioè hai cancellato le storie No no Hai fatto la diretta Hai spiegato Hai spiegato L'errore E quindi hai fatto Divulgazione Hai trasformato Un errore In un'opportunità Però quali sono Gli errori Che vedi di più Sulla stampa italiana Nella rappresentazione Del mondo Allora Un ordine alfabetico Cronologico Io ho iniziato La mia esperienza Con i giornali Con le interviste È stato Un inizio drammatico Perché io ho rilasciato Un'intervista 2018 era Quindi ero sui social Da poco E mi ha contattato Questo giornale Della mia città Per chiedermi appunto Un'intervista Sulla mia storia Su quello che stavo Iniziando a fare Tutto Vabbè facciamoli Emozionato Comunque bella La prima intervista Wow no Un po' Il cappello dietro l'orecchio Così Grazie mille E poi Faccio questa intervista Che mi sembrava Di essere andato bene Di aver detto cose Abbastanza sul pezzo E poi I titoli Però il titolo era Spiattellato dappertutto Per tutta la città L'edicole Si vedeva in grande Perché era una cosa strana Questo ragazzo trans In questa città Che non è poi così grande E c'era scritto Ragazza vuole diventare uomo Che suona strano Per mille ragioni E soprattutto Che per me è stato Dolorosissimo Perché i miei familiari La vedevano I miei familiari Mi chiamavano Per dimmi Cos'è sta roba Mia madre Insomma C'era mio nome e cognome Con questa frase Orribile E quindi Io sono rimasto Proprio scottato Ci fanno un po' più attenzione Perché sono così Quindi è facile Con me non sbagliare Adesso Però Sai Francesco Che era una ragazza Francesco Che è una ragazza trans Hanno scritto Capito Ok Quindi c'è un sacco di confusione E con l'Istituto Superiore di Sanità Vabbè di recente Abbiamo parlato Con l'Ordine dei giornalisti Abbiamo fatto una cosa online Insomma Quindi forse qualcosa Si sta muovendo Perché appunto Si fa molta confusione Tra ragazzo trans Ragazza trans No? Su usare il dead name Usare Non usare il dead name Eh questo te lo volevo chiedere Perché a volte vedo Del Tipo Elliot Page Attore Che ha fatto la transizione Si può dire Prima si chiamava Ellen Page A volte vedo Specie sui giornali americani Delle costruzioni Molto complesse Pur di non dire il dead name Che magari se qualcuno lo chiede Ci può stare come richiesta Però mi chiedo poi A livello giornalistico Se io devo contestualizzare Elliot Page Ci sta che io dica Magari prima Magari per chi non lo sa Si chiamava Ellen Page O è sbagliato Secondo te? Non è molto giusto Ok Però Diciamo che Quando non sai Non hai la certezza Usare il dead name Non è mai corretto Poi magari A lui non frega Però Quando tu lo usi Tu fai passare il messaggio Che si possa utilizzare Contestualizzare è facile Ci sono le parafrasi Il linguaggio italiano Poi è facilissimo È vero che noi viviamo Per declinazione Noi decliniamo in maniera Spontanea Femminile Ma i modi per aggirare Ce ne sono tantissimi Io ho vissuto i parafrasi Per tantissimo tempo Con mio padre Che non voleva chiamarmi A maschile Io non volevo chiamarmi Al femminile Quindi Come facciamo Questo povero Cristo Francesco Come lo chiamiamo Come parliamo E quindi Tipo Faccio sempre Questo esempio Che mi ricordo benissimo Che inoltre Era andato al mare A camminare Così E lui mi ha detto Mi ha mandato un messaggio Mi fa dove sei Io non volevo dirgli Sono da solo al mare Sono venuto al mare Gli ho scritto Sono a camminare In solitaria Sul mare No capito Per 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 Ma fa strano Magari Certo Però per dire Che i modi ci sono Poi questo magari Era un po' Un po' esagiato Un po' cringe Troppo forbito Però i modi ce ne sono Per non parlare A maschile o al femminile Quindi Le cose più rischiose Che arrivano dai giornalisti Sono anzitutto Nei confronti La persona intervistata Che io noto Ovviamente poco rispetto Poco Poca delicatezza Poi so che adesso Magari il giornalismo È diventato tutto rapido Devo scrivere prima io Devo fare prima io Perché altrimenti No Perdo l'occasione Però Parliamo di vite Tu ti sei mai ritrovato Al centro di Shitstorm Su questi temi o no? No Legato alla comunità trans No Cioè Shitstorm Solo una È successa Però non legata Alla comunità trans Era Un'altra cosa Che avevo detto Perché anch'io Non è che sono senza macchia Per carità Non lo è Penso nessuno Se andiamo a scavare Anch'io ho detto Ho fatto i miei strafalcioni Su Su esperienze di vita Che non mi appartengono Perché è di quelle Quelle no? Che sbagliamo a raccontare Sulle nostre Siamo tutti ferratissimi Tutte le parole giuste abbiamo Quelle degli altri Che non conosciamo Possiamo sbagliare Questo è normale E quindi sì Anche io Ho preso un po' Ma non era una vera Scissima Era una roba su Twitter Sai che su Twitter Si esaggia tutto Sì Su Twitter è un po' Un po' Io l'ho cancellato Ho eliminato Non voglio saperne nulla Non lo usi neanche tu? Io lo uso solo per leggere Scrivere Perché appena scrivi qualcosa C'è qualcuno che ti punta il dito E lo trovo molto tossico Credo sia il suo Sì abbastanza Non so Ask Però se a livello di Ask Vero mi ricordo un po' Ask Stavamo parlando dell'importanza Della rappresentazione E io Ho visto Quando c'è stata Questa mega polemica Sulla sirenetta nera Ho visto dei video Su TikTok Che mi hanno Che quando li ho visti Ho detto Chi non capisce L'importanza della rappresentazione Se si vede questi video Secondo me Un po' Viene colpito Un po' Nella sensibilità Perché erano Delle bambine Delle ragazzine Nere Che guardavano Per la prima volta La sirenetta nera Ed erano felicissime Non ci potevano credere Di vederla rappresentata Come loro C'è mai stato un personaggio Che tu hai visto In un film Una serie O quello che vuoi tu Che quando l'hai visto Hai detto Oh che bello Essere finalmente rappresentati così No Mai successo No Non è mai successo Sarai tu Sarò io Sarò io Ragazzi Però per la comunità trans Rappresentazioni sono veramente poche E fatte bene Abbiamo solo visto cose stereotipate A parte quando le donne trans Erano assassine Psicopatiche Sempre sex worker Morivano Tutto Poi abbiamo visto Uomini gay Che morivano sempre Di malattie sessualmente Trasmissibili Sempre Cioè Quello era l'unico futuro O delitto passionale O ragazze lesbiche Che si suicidavano Perché non riuscivano A trovare l'amore Cioè Delle storie tragiche Tant'è che A volte Anche di recente Quando fai coming out Come persona gay O come persona trans Tutti sono preoccupati Che avrai una vita miserabile Io cercavo qualche dato Su questo C'era una ricerca Che diceva Che l'80% degli americani Non conosce una persona trans E quindi 8 persone su 10 americani Hanno l'idea dei trans Dalla rappresentazione sui media Dai film E parlavamo prima Del primo personaggio Cosiddetto Trans Nel cinema Un film del 1914 1914 Che si chiamava Giuditta di Betulia Che aveva È stato uno dei primi film Del regista Griffith In cui si usava il taglio Nel montaggio Fondamentalmente Per dare l'idea del taglio Per suggerire del taglio C'era un personaggio Che era un uomo Che interpretava Un neonuco evirato In quanto figura tagliata Dava l'idea Del montaggio del taglio C'è una storia orribile Praticamente Abbastanza Allucinante E poi tutti i film Erano uomini Che si travestivano Da donne Il personaggio trans Era l'uomo Che si travestiva Da donna E quindi dava Quell'idea Sempre E dava l'idea Sempre O era una sex worker O era uno psicopatico Vedi psycho Vedi il silenzio Dell'innocenti Psycho Dicico Che era Uno psicopatico Cioè era sempre associata A qualche tipo Di disturbo Malattia mentale Poi come dice Tu l'abbiamo visto Come vittime Nelle serie crime Soprattutto negli anni 90-2000 Le trans I trans erano Vittime di crimini E c'era il poliziotto Super macio Nelle serie Che trattava il corpo Della vittima Con superficità O comunque Come se fosse un po' Di buono Fondamentalmente Però dal 2010 Stanno iniziando A cambiare Un po' Le cose Come dicevi tu O no Forse Orgis the new black Anche perché Migliorare da quel punto Di partenza Non poteva peggiorare Voglio dire Togliamo la psicopatia E già È una cosa È un successo Togliamo il suicidio È già Una roba incredibile Però Questo cis gaze Che rimane Che è lo sguardo Della persona cis Che è come il male gaze Alla fine Cioè Di male gaze Si parla tantissimo Cioè di come L'uomo Rappresenta la donna E la rappresenta L'ha rappresentata Tantissimo Nei film Nelle serie In base al suo piacere Alla sua idea Di donna In base agli stereotipi E a come poi A cosa gli uomini Avrebbero dovuto trarre Dalla visione di quella donna Cioè piacere Questo è stato Al centro d'attenzione Ma anche una serie TV che ho visto Di recentissimo Che è una serie Non so se posso fare i nomi Però è Love Death Robots Non so se l'abbiate vista Nella prima stagione Sapendo l'esistenza Del male gaze Avendo capito cos'è L'ho notato tantissimo I personaggi femminili Sono quasi sempre nudi Quelli maschili no E non hanno Una funzione rilevante E questa è una serie nuova Poi questa cosa È stata notata È stata migliorata Anche perché Lo spazio Per moltissimo tempo L'hanno avuto solo Gli uomini cis bianchi Quindi erano loro A raccontare il mondo Come loro lo vedevano E per il loro piacere E oggi Sono le persone cis A rappresentare persone trans A interpretarle nei film La rappresentazione È sempre stata Persona trans Che ha una vita terribile Che si guarda allo specchio Che si taglia i genitali Da sola Cioè queste sono Rappresentazioni recenti Che si taglia i genitali Con le forbici Perché non vuole più Che viene a che fare Persona che muore Durante l'intervento Come in Danish Girl Oppure Tutto che si focalizza Sul dolore Che la famiglia prova Sul Sui familiari Sì anche Sto pensando a Pose C'è una serie Che è vero Che rappresenta Oltre alle donne trans E donne trans nere In quel periodo In America Quindi è una storia Però Il successo Di quella serie lì È anche Tanto dolore E tanta È la pornografia del dolore Anche quella ha funzionato Sempre tantissimo Cryporn Sì Cryporn Bello Non lo conoscevo Per disillasse usata Ah Cryporn Si piange Io non ce l'ho fatta Questa non la sapevo Questa non la sapevo Abbiamo qualche dato Guarda L'abbiamo trovato in diretta Dalla regia Buge La ONG inglese GLAD Ha monitorato Monitora la rappresentazione LLGBTQ plus Nei media Ha preso 112 episodi Di sceneggiatori tv Che contenevano personaggi Transgender Praticamente Dal 2000 Dal 2002 a oggi Il 54% Dei trans Erano rappresentazioni negative Il 40% Delle volte Il personaggio Era rappresentato Come vittima E nel 20% Dei casi Era un sex worker Uno se c'è C'è un sex worker Per dire Non c'era una persona normale Esatto Quando mi conosco Rimango sorpreso Ma qui tu sei felice Cioè qui tu sei innamorato Di recente mi hanno chiesto Ma la tua fidanzata È una trans Mi hanno chiesto Con questo linguaggio qua Perché ma Sì anche mia madre Mio padre Sono tutti trans Anche i miei colleghi al lavoro Tutti I zii I cugini Tutti quanti Cioè è meglio Non essere rappresentati O essere rappresentati male Non lo so Bella domanda Oddio Se O l'uno o l'altro Quindi proprio Di essere rappresentati male Perché almeno si può migliorare Se sei rappresentato Non esisti Quindi quello è già Quello è un bel Cioè uscire dal non esistere Non è facile Prima parlavamo di film Negli spazi di tutti No Uomini cis che fanno Uomini gay Uomini cis che fanno Donne trans Uomini cis Che scrivono parti Cioè basta Nel senso abbiamo bisogno Di ampliare le vedute No Poi Questo è un grande dibattito Cioè ma le persone trans Dovrebbero fare Interpretare solo persone trans È giusto Non è come ghettizzarle No Non è come ghettizzarle E inserirle Finalmente nel discorso Per dire proprio Quanto è recente Cioè in Prisma Il ragazzo È un ragazzo cis Che io sappia Anche questo Magari non mi azzaro Perché magari lui Dentro di sé No Però Non è una Da quello che si sa Non è una persona non binaria Quindi Anche lì È rimasto un po' Nel blocco Del Ok rappresentazione Ma non esageriamo Però Chiaro che non è bello Se a me Nella vita Se mai avesse una carriera Ad attore Non vorrei mai Che mi dicessero Tu puoi fare solo Uomini trans Però Che anche mi dicessero Tu non puoi fare niente Intanto iniziamo da questo E visto che le persone cis Hanno sempre fatto Interpretato persone trans Allora O iniziamo a fare interpretare Alle persone trans I personaggi cis O almeno Gli diamo lo spazio Per interpretare Personaggi trans Quindi secondo te Un regista dovrebbe Chiamare un attore Un'attrice trans Per interpretare Quei Dallas Buyers Club Non avrebbero dovuto chiamare Giard Leto Che era una persona più maschile Che si possa immaginare Ed era praticamente Una persona travestita Non era una persona trans Cioè era un uomo Con il rossetto Che poi è quella L'idea che si è sempre avuta Gli hanno dato l'oscar Se non sbaglio Gli hanno dato l'oscar Forse Eh mi sa Ma anche a Eddie Redman Anche lui Anche lui Anche lui Sì sì Che capito Cioè da anche un po' Dici cavolo Cioè questa A noi persone trans Non è rimasto niente Cosa è rimasto? È rimasto Dal film con Gli ha redletto Cioè è rimasto che Le donne trans Sono persone travestite Uomini con rossetto Questa è poi È andata avanti La narrazione Per tanto tempo Da The Danish Girl È venuto fuori Che le donne trans Muoiono Quando si operano E hanno una vita Difficilissima Tutta una costante ricerca Dell'essere accettate E che quindi è meglio Quasi non essere donne trans Ci auguriamo Di non esserlo E intanto Queste persone Hanno vinto gli oscar Capito? Che non Non è che non sia giusto Però stride un po' No? Rendersene conto E quando ci sono stati Gli Emmy due anni fa Per Pose Sarebbe stata la prima E poi però Non ha vinto Quindi Eh intanto È stata una nomination Senti sì Infatti è stata forse La prima nomination Adesso Laverne Cox Laverne Cox Sì Di Orange is the New Black Che ha ottenuto la nomination Per gli Emmy Io non guardo la serie Quindi non so dire Sì sì Ecco è vero Perché c'è anche Quella rappresentazione lì Lei interpreta proprio Una donna trans Nella prigione Insomma L'ambiente della prigione Se non l'hai vista Comunque lo devi vedere Parte rappresentazione trans Che comunque è marginalissima Non è Sì non è Non è molto È super piccolo Su personaggio Io ogni volta che Intervistiamo qualcuno Mi devo segnare Poi le cose da guardare Io farò Poi alla fine Farete una lista Di cose da ascoltare Da vedere Io prossimo anno Sarò a casa Grazie Francesco Grazie Grazie a voi Grazie mille Applauso Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Showoff è una produzione Wheel Media Sky Italia Autori Francesco Giano E Giulia Valentina Pura editoriale Riccardo Bassetto Produzione Giada Archidi E Silvia Calarco Regia Maurizio Stanzione Marco Berton Scapinello E Antar Corrado Colorist Luca Gambelli Motion Graphic Angelo Gioia Sound Design Lorenzo Marsiglia Distribuzione Wheel Media Sky Italia Medibusia Un Ottieni Tid Un ske pratico